wow mamma mia se vuoi essere salutato in un mio prossimo video ascolta me metti mi piace a questo video e commentalo iscriviti al mio canale e clicca sulla campanella delle notifiche per non perderti nessun mio video ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Mr Brain e oggi ragazzi siamo qui con una nuovissima reaction e ragazzi oggi andremo a vedere una compilation di cose fatte delle persone veramente allucinanti veramente incredibili ragazzi scusate innanzitutto per la voce però mi sono un po' raffreddato un po' di mal di gola perché ovviamente con questo freddo è molto molto facile ammalarsi comunque ragazzi spero che questa reaction vi piacerà se in tal caso mettete un bel like e commentate con una hashtag saluti se volete salutare in un mio prossimo video queste sono le persone che saluto oggi ciao ragazzi e ovviamente condividete con tutti i vostri amici e fateli iscrivere e se non siete ancora iscritti iscrivete pure voi comunque ragazzi adesso andiamo subito alla reaction ok ragazzi qua c'è una persona che praticamente è un sub che c'è un buco gigante che non so cosa sia bu è bello è bello però fa anche paura nel stesso momento mi zaga meglio che soffro i vertigini questi proprio no mamma mia rega mamma mia c'è anche una bella musichetta in sottofondo la film film mamma mia mamma mia raga bravissimi con le BMX che io ce l'avevo quando avevo sette anni fa più o meno quando avevo dieci o undici anni madosc fenomeni sono allucinanti non so proprio come fanno raga bu ma cos'è raga cos'era quella roba mi zaga era un vulcano una montagna bu wow mamma mia ma che velocità andava madosc raga allucinante pizzo ma questo altissimo il tuo grattacero questo mi dico un po' tutto nero questo è una grotta non si capisce moltissimo del luce mamma mia questo porca miseria e questo sarà il team di Red Bull che lo farà mamma mia fenomenale la miseria ma che salta ha fatto sta roba questa macchina madonna mizzeca ma cosa ha fatto a stare così va allucinante troppo troppo bravi poco a fare madosc impressionanti sono ok ragazzi la reaction è finita qua ragazzi spero che questa reaction vi sia piaciuto se in tal caso mettete un bel like commentate con hashtag salutemi se volete essere salutati in un mio prossimo video e ovviamente condividete con tutti i vostri amici fatevi iscrivervi e se non siete ancora iscritti iscrivetevi pure voi da MrBn è tutto spero che questa reaction vi sia piaciuta e vi lascio il mio prossimo video vi riuscirà molto molto presto ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 ciao